Un'altra candidata è Adriana Coppola. Buonasera, io sono Adriana, candidata alla quinta municipalità, sono un'insegnante, insegnò nei quartieri spagnoli e io ci tengo, visto che abbiamo parlato di ambiente, legare il tema dell'ambiente al tema della bellezza della nostra città. Allora, la nostra città ha poco verde, il volo è un po' più fortuna, ma di realtà se noi ci guardiamo intorno, non c'è un balcone con un fiore, non c'è un balcone che sia... pochi sono i balconi. Visto che possiamo mettere le compostiede all'interno dei nostri parchi, potremmo approfittare poi del compost e anche fare i nostri terrazzi belli, la nostra città che la possiamo guardare ed è più bella, ed è più attraente, proprio alla vista, perché veramente c'è un degrado incredibile. Con questi nostri terrazzi, con il nostro compost, abbiamo risparmiato, abbiamo utilizzato il compost a casa nostra prima di tutto e possiamo fare un terrazzo bello, ma anche buono da mangiare, perché lo possiamo fare un po' di fiori, ma anche di cose alimentari. Cominciamo anche noi a coltivare qualcosa a casa nostra, e questo è proprio, come diceva anche Marie, l'educazione proprio, che noi dobbiamo raggiungere questa educazione, dobbiamo fare anche queste scelte. E quindi dai, ci dobbiamo provare, facciamo una città bella, facciamo una città pulita, facciamo una città dove i nostri diritti non vengano più calpestati. Grazie.